Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti oggi così numerosi, sono un seguito ringraziamento da parte di librerie Fettedelli a Luca Comics & Games, anche quest'anno ospitiamo questo appuntamento molto importante per noi, lo ospitiamo non a caso in quella che è la libreria più importante per il nostro gruppo e c'è una ragione molto precisa, qui oggi voi trovate 70.000 titoli di libri, di cui oggi 5.000 sono fumetti, è una realtà che è sempre più in crescita, come vedete da qualche mese oggi le novità editoriali sono collocate all'ingresso insieme alle novità a fumetti, perché vogliamo sottolineare la paridignità di questa forma di narrazione accanto a quella più tradizionale del libro. Detto questo vi ringraziamo di essere intervenuti e diamo inizio a questo evento, grazie. Grazie.